Anche quest'anno la festa più gioiosa e colorata arriva con il suo carico di tradizione. Il Carnevale è una delle più antiche feste popolari, le cui radici risalgono indietro fino agli anni dell'antico Egitto. La festa che simboleggia il momento di massima abbondanza prima dell'astinenza imposta dal periodo di Quaresima è una delle più attese, soprattutto da parte dei più piccoli, che per un solo giorno possono fingere di essere i loro beniamini. Il Carnevale arriva anche nel territorio flegreo, con la sua esplosione di hilarità e con mille maschere che lo caratterizzano. Una giornata all'insegna del divertimento e dello svago, quella organizzata ieri 10 febbraio dall'Associazione Grotta del Sole nel comune di Quarto. Una festa iniziata nello spiazzale adiacente il supermercato Deco, sito in via Masullo 165, curata nei minimi dettagli, capace di intrattenere tutti, indifferentemente dall'età anagrafica. Lo start è stato dato alle ore 9 con l'arrivo dei centauri e dei piloti delle auto e moto d'epoca. L'esposizione delle grandi due e quattro ruote del passato è stata capace di suscitare l'interesse di curiosi e appassionati. Poi è stato il momento di un banchetto abbondante e generoso, di cui erano protagonisti dolci tipici della festività, curate da massaie e artigiani dolciari locali. Ma quella di ieri è stata anche una giornata alla scoperta di un territorio, quello del comune di Quarto, con un carico di bellezze archeologiche che purtroppo non riceve mai l'attenzione dovuta. L'Associazione Grotta del Sole si è dimostrata dunque una padrona di casa impeccabile, mantenendo costante il suo impegno per la riqualifica del territorio e il suo interesse nel fornire momenti sociali volti all'aggregazione. Grazie.